L'intelligenza artificiale, ai, potrebbe essere la tecnologia più importante che gli esseri umani abbiano mai creato. Il suo impatto è già stato avvertito nei settori del commercio al dettaglio, della sanità, dei trasporti, della sicurezza informatica, della pubblicità e molti altri. Ed è un trend destinato a crescere solo nel corso del ventunesimo secolo. Il grande dibattito ora però è un altro, questa tecnologia migliorerà la qualità delle nostre vite o è un rischio esistenziale per l'umanità? Perché coesistere con l'IA è possibile Stuart Russell, professore di informatica presso l'Università della California, Berkeley, crede che possiamo coesistere felicemente con macchine sempre più sofisticate, basta ripensare la nostra relazione. La nostra intelligenza è ciò che ci dà potere sul mondo, potere su tutte le altre specie del pianeta, dice Russell al podcast Founding Conversation. Se crei un'altra classe di entità più intelligenti di noi, allora, per impostazione predefinita, ci si aspetterebbe che avranno potere su di noi. Quindi, come manteniamo il potere su di loro per sempre, quando sono più potenti di noi? Questo è il trucco. Alan Turing pensava che non ci fosse una soluzione a quel problema. Ma io sostengo che in realtà, se osserviamo attentamente, possiamo trovare un modo per affrontare questo tema. La chiave, per Russell, è allontanarsi dall'attuale approccio di fissare obiettivi definiti che l'IA deve risolvere. Possiamo sostituire il modello standard dell'IA con un nuovo modello in cui le macchine sanno di non sapere qual è l'obiettivo. Sembra una sorta di contraddizione, ma in realtà è più semplice del previsto grazie ai protocolli. Quando entri in un ristorante, per esempio, lo chef non sa cosa vuoi mangiare, ma ha un intero protocollo per scoprirlo. Quindi stiamo sviluppando algoritmi che operino su questa nuova base. La collaborazione tra uomo e macchine sarà la chiave Marcos Dusoto i, presidente Simoni per la comprensione pubblica della scienza. Presso l'Università di Oxford, concorda sul fatto che la collaborazione sia la chiave per evitare un futuro dominato dalle macchine. Penso che Hollywood ci abbia offerto un tipo di immagine terribilmente distoppica dell'IA. Se possiamo muoverci verso un futuro di collaborazione, piuttosto che di competizione, allora IA e uomo ne trarranno vantaggio reciproco. Abbiamo già visto esempi del genere nella medicina, in cui radiologi e IA insieme sono in grado di individuare i tumori in modo molto più accurato di ciascuno individualmente. Il vantaggio competitivo dell'uomo nel mondo del lavoro, le emozioni ma questo solleva l'altra grande preoccupazione per il crescente. Predominio dell'IA, anche se le macchine non prenderanno il controllo del nostro pianeta, prenderanno il nostro lavoro o ci adatteremo e ne creeremo di nuovi? Se ci saranno nuovi lavori, dovranno essere lavori in cui gli esseri umani hanno un vantaggio competitivo rispetto alle macchine. E con lo sviluppo dell'IA, sarà sempre più difficile. Anche i musicisti jazz, i radiologi, i narratori, gli scrittori, gli sceneggiatori, quelli che consideriamo lavori puramente umani, molto sicuri e protetti, potrebbero scomparire, spiega Russell. Il nostro vantaggio, sostiene, sta nel fatto che condividiamo sistemi nervosi molto simili, che ci consentono di comprendere le emozioni e il dolore l'uno dell'altro in un modo in cui le macchine non possono replicarsi completamente. Lavori che si basano sulla relazione interpersonale, in cui una persona opera per rendere la vita degli altri migliore, più ricca, più interessante, più positiva, per aumentare la curiosità e l'apprezzamento per l'arte, la musica, la letteratura, la natura, qualunque essa sia, questi sono i tipi di lavori in cui noi umani abbiamo un vantaggio competitivo. Ed è così che vedo il futuro. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, SA, 6B, Rudufort-Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.picte nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.